Siamo con il presidente Luca Crocioni, ASD Perugia Torba. Che cos'è il Torbal? Ci spieghi l'importanza per gli ipovedenti e i cecchi fare dello sport. Allora, il Torbal è un gioco con una palla sonora, in un campo da gioco di 16x7, quindi abbastanza grande, quasi quanto un campo da pallavolo. Il gioco consiste nel far passare la palla sotto dei fili alti circa 50 cm e possibilmente cercare di segnare nella parte opposta. Si gioca con le mani, è vietato usare i calci, ci sono dei tappetini di riferimento che servono ai giocatori per orientarsi, però ovviamente i giocatori non è che devono stare fissi sopra i tappetini, possono tranquillamente muoversi per tutto il campo. L'importante è non superare le cordicelle che, se vengono toccate, poi fanno fallo. L'importanza dello sport e soprattutto della grande attività che sia il presidente Luca Crocioni e sia la Federazione Italiana Sport Paralimpici per i povedenti e cecchi, cioè la FISPIC, sta facendo. Proprio siamo qui a Rigutino dove si sta disputando un campionato italiano dei migliori 12 dello showdown. Lo showdown ci dice cos'è? Allora, lo showdown è un gioco nato in Canada, sostanzialmente è una metà tra il ping pong e l'hockey da tavolo. È una via di mezzo, poi come vedrete sicuramente dalle immagini che registrerete, la pallina deve passare, il campo, cioè il tavolo da gioco è lungo come un tavolo da biliardo. La pallina deve passare sotto uno schermo di plexigas e deve cercare di segnare nella porta opposta, che viene difesa dalle palette e dal giocatore. A Rigutino si sta disputando proprio i migliori 12 italiani che si sfideranno per essere i campioni. Però diciamo che l'ASD, Perugia Torbol, sta facendo tanta attività. Ecco, c'è un appello. Perché? Perché c'è stata una bellissima manifestazione dove a Gubbio, il sindaco di Gubbio, le istituzioni e anche altre realtà, hanno supportato l'iniziativa per far conoscere lo showdown. Ecco, c'è un appello che lei vuole fare in merito a dei campi di showdown. Sì, allora, innanzitutto vorrei ribadire che qui abbiamo i migliori 12, sia maschili che femminili. La cosa mi dispiace assai, perché i nostri ragazzi della Perugia Torbol che vorrebbero tanto poter giocare a showdown non riescono a trovare un posto dove allenarsi. Non riusciamo a mettere un benedetto tavolo che abbiamo comprato dalla Repubblica Ceca in un posto al chiuso, perché ovviamente se lo lasceremmo all'aperto si rovinerebbe tra l'umidità, la pioggia, eccetera. Non riusciamo a trovare un posto. Abbiamo fatto innumerevoli appelli richiesti agli assessori. Adesso credo non sia il caso di far... Ci sono stati tre assessori al Comune di Perugia di cui mi hanno dato sempre riscontro positivo, ma tante promesse e zero fatti. Mi era stato assegnato via email un posto in una scuola, anzi sarebbe stato un asilo per l'esattezza, una scuola elementare credo che sia stata, che tra cui da me visionata e era inagibile. Avevano ancora da rifare il tetto, parlo di dicembre. Ad oggi ancora i lavori non sono stati fatti. È una cosa vergognosa. A questo punto chiedo alle istituzioni la possibilità di avere una stanza chiusa, perché ciò che non hanno capito... A noi non serve una palestra. Noi non vogliamo una palestra. Non c'è bisogno di una palestra. Basterebbe una stanza. Una stanza abbastanza grande per poter mettere il tavolo e potersi allenare. Non è che chiediamo una cosa che è fuori dal mondo. Hanno tantissime sale, danno anche gratuitamente ad alcune associazioni. C'era stato detto che dovevano rivedere il piano per ridare le sale alle varie associazioni di Perugia. Praticamente siamo rimasti fuori perché già ci hanno detto che sono pieni. È una vergogna. Non va bene così. A questo punto facciamo appello al sindaco o al presidente della regione o all'assessore alla regione che ci aiutino a trovare un posto dove poterci allenare. Perché secondo i diritti costituzionali tutti hanno il diritto di poter svolgere l'attività fisica e motoria. Non capisco perché i normodotati sono maggiormente aiutati mentre noi che siamo di Sabe e abbiamo veramente bisogno di aiuto siamo messi alla porta. Ci spiega la metratura degli spazi che ti servono per poter mettere un impianto per giocare allo showdown? La metratura è poca perché alla fine basterebbe 7 per 7 ecco 10 metri quadri? Sì, più o meno 10 per 10 7 per 7 insomma certo bisogna anche un attimino avere lo spazio per muoversi questo è chiaro però insomma non è che ci vuole un chissà quanto grande la sala poi insomma adesso vedrete anche nelle immagini che siamo qui in un hotel a Riguttino l'albergo ci ha messo a disposizione le sale per poter poter svolgere questa manifestazione di cui inizialmente doveva essere svolta a Foligno mi era stata chiesta di organizzarla a Foligno poi io non me la sono sentita ho chiesto al Presidente di rimandarla altrove proprio perché con la situazione terremoto non potevo garantire la sicurezza per me prima di tutto c'è la sicurezza dei giocatori gli allenatori e le persone che vengono a vederci poi è tutto il resto mi pare chiaro che a questo punto abbiamo dato una mano qui per poterlo svolgere al meglio il riferimento è a Riguttino dove si sta disputando il campionato dei migliori 12 dello showdown lo sport è utile per tutti lo è soprattutto perché ha necessità di praticare una disciplina sportiva lo è soprattutto quando si celebrano diciamo la giornata dei disabili a livello internazionale è giusto che le istituzioni diano uno spazio che è 10 metri quadrati o le istituzioni o dei privati che hanno degli spazi per poter collocare un impianto di gioco dello showdown farebbero bene non solo a loro stessi ma farebbero bene perché si parla tanto di solidarietà a parole bisogna passare dalle parole ai fatti adesso ci teniamo a fare un appello perché perché a Perugia succede nel comune di Perugia che c'è un'associazione l'ASD Perugia Torbal il cui presidente è Luca Crocioni che sta facendo tantissime attività importante soprattutto per facilitare allo sport gli ipovedenti e i ciechi manca di una struttura 10 metri per 10 per poter far praticare lo showdown che ricorda una specie di tennis tavolo e hockey da tavolo ecco alle istituzioni ma anche ai privati un appello a supporto dell'iniziativa che con merito tutta l'ASD Perugia Torbal di Luca Crocioni sta portando avanti per inserire al meglio i ipovedenti e i ciechi sicuramente è un appello molto importante è un appello rivolto agli enti locali è quello di poter dare la possibilità a questa società di sistemare di dare la possibilità soprattutto agli atleti di fare attività avendo un locale dove si possa mettere questo tavolo in parole povere e dare la possibilità a tutti gli atleti di potersi allenare di poter fare promozione sportiva perché abbiamo visto che è spettacolare la settimana scorsa con la delegata Elena Kurlovic siamo stati nella stupenda città di Gubbio dove il sindaco e l'assessore allo sport sono stati molti ricettivi e disponibili è stata una giornata piacevole all'insegna dello sport della solidarietà della socialità questo è quello che ci aspettiamo dall'istituzione ma anche dai privati sicuramente sì infatti a Gubbio è stato fatto un bellissimo evento è stata fatta promozione pura sperando che questo venga recepito ai nostri amministratori e anche ai privati ringrazio il presidente Sandro Di Gironomo della federazione italiana sport parolimpici per i povedenti e ciechi e ringrazio anche a Luca Crocioni che insieme alla delegata regionale Elena Kurlovic stanno portando avanti questa battaglia battaglia di civiltà dico io Luca ah scusa sì in effetti è proprio una battaglia lottare contro le istituzioni oggigiorno diventa una battaglia all'ultimo sangue però dice che non bisogna perdere la speranza speriamo che dopo tre anni avete capito bene ben tre anni di cui ancora stiamo lottando per avere questo benedetto posto